Fortunatamente la voce di Enrico non ha mai problemi Andiamo con il medley Ci siete pubblico? Ci siete pubblico che è venuto dalla Svizzera per noi? Dove sono? Eccoli là! Ci hanno seguito apposta? Ok, allora questo medley lo dedichiamo a chi è venuto apposta dalla Svizzera per Enrico Grazie! Svizzera per Enrico Grazie! 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 Grazie!